La casa ideale Marazzi, proposta a Cersaie 2021, è una costruzione compatta e massiva, che si sviluppa su 400 metri quadrati, le cui caratteristiche sono espresse dal potenziale materico dell'azienda, che si amplia con ultime nuove collezioni. Maiston Travertino, le nuove collezioni Marazzi a effetto legno, marmo, cemento e resina, sono i protagonisti dei match pensati con i piccoli formati come Crogiolo Rice, Loom e Zelig, nonché utilizzati anche per rivestire i grandi volumi di cucina, lavabi e il maestoso cammino passante che domina l'area living. Il nuovo Gress Maiston Travertino dà al marmo un'eccezione fortemente contemporanea. Dettagli e imperfezioni sono riprodotti con precisione, grazie alla stampa digitale Sublime Sync. Tre i colori, Navona, Classico e Silver. Due le possibilità di decoro, Classic e Botanic. Maiston Travertino propone anche tre mosaici e quattro formati. Due le finiture, una più morbida e calda, una più lucida e raffinata. Il top da cucina è rivestito con la grande lastra nella versione sodalite blu. Crogiolo Rice reinterpreta in Gress la bellezza dei mattoncini maiolicati fatti a mano. Una palette neutra, bianco, naturale e grigio con accenti di blu. Si intreccia a tre motivi ispirati alla natura. Vero nel formato Chevron 11x54 è la collezione in Gress Effetto Legno che si ispira alla bellezza delle grandi tavelle di Rover e Massello, ricche di nodi, imperfezioni, stuccature. La collezione è disponibile anche nella variante 2 cm, nei formati 40x120 e 60x60. White Deco è il nuovo rivestimento sottile di grande formato 60x180. La purezza del bianco assoluto è la sua anima. Una superficie semi-matte morbida e una struttura materica realizzata con graniglia può vivere in total white o servire da base per le decorazioni. Colori brillanti incoraggiano l'uso dei decori a wallpaper su grandi pareti e in tutti gli ambienti, anche in doccia. La collezione Cementum propone in Gress le proprietà del cemento colato, 9 i formati, 4 le tonalità naturali, ash, sand, nickel, lid. A queste si aggiungono le tonalità di tendenza, indigo, carbon, olive, cotto. Cementum è completata da una serie di grafiche, spring, mosaico, striato e arco. A presto.